Ma lei è Mara Carfagna, l'ho riconosciuta, è tornata a trovarci, eh? Eh sì, perché da computer di scanto mi sento subito a mio agio. E poi c'è una scelta amplissima delle migliori marche. E poi c'è del personale altamente qualificato. Credetemi, da computer di scanto trovare il computer adatto alle proprie esigenze è più facile. Ad esempio un personal computer DEX con processore Intel. Ma è vero che per qualsiasi problema tecnico ogni negozio ha un suo laboratorio interno? Certamente, così è tranquilla due volte, sia prima che dopo l'acquisto. Eh sì, i servizi sono davvero tanti. Ma computer di scanto puoi installare e consegnare a domicilio? Certo, per i meno esperti facciamo un corso a domicilio che si chiama... Startup. Ma vediamo subito qual è l'offerta che computer di scanto consiglia in questo periodo. Sentiamo l'esperto. Computer di scanto vi propone il personal computer DEX 0176 basato sul nuovo processore Intel Celeron a 333 MHz. Il prezzo è eccezionale. DEX con processore Intel Celeron è vostro a 1.999.000 lire. Compresi nel prezzo ci sono il monitor, Microsoft Windows 98 e a vostra scelta la stampante a colori DEX o il modem Fax 56K. Pagabile anche in 15 rate mensili da sole 153.700 lire. Prima rata, aprile 99. E per conoscere il punto vendita più vicino basta chiamare il numero verde. Eccoci di nuovo in studio. Bologna e Piacenza 3 a 1 fa tutto il Bologna nella ripresa. Mazzone festeggia la sua 300esima vittoria in CDA. Mario Mattioli. Bologna e Piacenza 3 a 1 fa tutto il Bologna nella ripresa.